Cesare Cremonini è un nome familiare in Italia. È un cantautore, pianista e attore. La sua musica ha conquistato i cuori di milioni di persone. Cremonini è emerso alla fine degli anni 90 come frontman dei Luna Pop, la band che ha fatto innamorare una generazione con le sue melodie orecchiabili e i testi autentici. Dopo lo scioglimento dei Luna Pop, Cremonini ha intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando numerosi albumi singoli in vetta alle classifiche. La sua musica, un mix di pop, rock e arrangiamenti orchestrali, continua ad affascinare il pubblico. I suoi testi, spesso introspettivi, esplorano temi come l'amore, la perdita e le complessità della vita. La musica di Cremonini ha una qualità senza tempo e si rivolge ad ascoltatori di tutte le età. Il suo contributo alla musica italiana è innegabile e rimane una figura di spicco nel panorama musicale. Ora che non ho più te segna un nuovo capitolo per Cremonini. È una ballata toccante che scava nelle profondità del dolore. La canzone mette in mostra le sue straordinarie capacità vocali, trasmettendo emozioni pure e crude. I testi, personali e universali allo stesso tempo, risuonano in chiunque abbia sperimentato la sofferenza per amore perduto. Cremonini ha descritto la canzone come una riflessione sulla solitudine, un'esplorazione delle complessità del processo di elaborazione della perdita. I testi, introspettivi ed evocativi, dipingono un vivido ritratto delle conseguenze di una rottura. La canzone è una testimonianza della crescita di Cremonini come artista, mostrando la sua abilità nel trasmettere emozioni complesse attraverso la musica. Ora che non ho più te, è una potente esplorazione dell'amore e della perdita. La melodia della canzone è struggente e memorabile, un complemento perfetto al contenuto lirico. La voce di Cremonini è cruda ed emotiva, trasmettendo ogni verso con sincera intensità. L'arrangiamento, scarno ma efficace, permette alla sua voce e ai testi di essere al centro dell'attenzione. I testi, personali e riconoscibili, parlano del vuoto che segue una rottura. Cremonini riflette sui ricordi condivisi e sul dolore della separazione. Con onestà e vulnerabilità, i testi offrono uno sguardo sulle esperienze personali dell'artista con il dolore. Ora che non ho più te, è la dimostrazione del potere curativo e della capacità della musica di connettersi con gli ascoltatori a un livello emotivo profondo. Il Cremonini Live 25 si preannuncia come un evento memorabile. Il tour porterà Cremonini nelle principali città italiane e i fan attendono con ansia la possibilità di ascoltare la sua musica dal vivo. Il tour, che prenderà il via nell'estate del 2025, sarà caratterizzato da una produzione impressionante. Cremonini è noto per le sue performance energiche e coinvolgenti e il tour includerà sia concerti indoor che all'aperto per soddisfare un'ampia gamma di fan. Ci si aspetta che Cremonini proponga un mix dei suoi più grandi successi e di nuovi brani. Il tour sarà una celebrazione della sua carriera e un'opportunità per i fan di entrare in contatto con la sua musica in un contesto live. Dagli stadi ai palazzetti, le esibizioni dal vivo di Cesare Cremonini sono famose per la loro energia e spettacolarità. Con una presenza scenica naturale, si connette senza sforzo con il suo pubblico. I suoi concerti sono una fusione di musica, luci ed effetti visivi, creando un'esperienza immersiva e indimenticabile. Cremonini ha calcato alcuni dei palchi più iconici d'Italia e i suoi concerti, sempre molto attesi, registrano il tutto esaurito. Il suo tour del 2025 promette di non essere da meno. I fan si aspettano una serata all'insegna della musica, dell'emozione e di ricordi indelebili. La carriera di Cesare Cremonini è costellata di successi musicali. Dai tempi dei Luna Pop alle sue esperienze soliste, la sua musica ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop italiana. Canzoni come Fiffia Special, Un giorno migliore e Logico Mambra 1 sono diventate inni generazionali, immediatamente riconoscibili ed evocativi di un senso di nostalgia. La musica di Cremonini ha una qualità senza tempo che continua a emozionare gli ascoltatori di tutte le età. Le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora a innumerevoli ricordi, fornendo lo sfondo a momenti di gioia, crepa cuore e tutto ciò che sta in mezzo. Il suo prossimo tour è un'occasione per rivivere questi ricordi e crearne di nuovi. Il talento musicale di Cremonini gli è valso sia il successo commerciale che il plauso della critica. I suoi album sono sempre in cima alle classifiche italiane e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. La sua musica è stata elogiata per le melodie orecchiabili, i testi introspettivi e la produzione innovativa. La capacità di Cremonini di entrare in contatto con il suo pubblico a livello emotivo è una testimonianza della sua arte. La sua musica parla dell'esperienza umana, esplorando temi come l'amore, la perdita, la speranza e la disperazione. Le sue canzoni, riconoscibili e stimolanti, offrono un senso di conforto e comprensione. La musica di Cremonini ha creato un legame profondo con i suoi fan. I suoi concerti sono molto più che semplici spettacoli musicali. Sono raduni di persone che condividono la stessa passione, unite per celebrare il potere della musica. I fan di Cremonini apprezzano la sua autenticità e la sua vulnerabilità. La sua musica è diventata parte integrante della loro vita, scandendo momenti importanti e offrendo conforto nei momenti difficili. I suoi concerti sono un'occasione per evadere dalla quotidianità e immergersi nella musica che amano. Il tour Cremonini Live 25 è la dimostrazione dello speciale legame che Cremonini condivide con i suoi fan. Con l'avvicinarsi del tour Cremonini Live 25 l'attesa continua a crescere. I fan non vedono l'ora di assistere al ritorno di Cremonini sul palco. Il tour si preannuncia come una celebrazione della sua carriera e un'opportunità per vivere la sua musica in un modo nuovo ed emozionante. L'uscita di Ora che non ho più te ha offerto ai fan un assaggio di cosa aspettarsi dalla sua nuova musica. I testi toccanti e la melodia struggente della canzone hanno lasciato il segno. I fan attendono con impazienza l'uscita di nuovi brani. Il fascino intramontabile di Cesare Cremonini risiede nella sua capacità di entrare in contatto con il suo pubblico a un livello profondamente personale. La sua musica, specchio delle sue esperienze ed emozioni, entra in risonanza con ascoltatori di ogni estrazione sociale. Le sue canzoni, senza tempo, continuano ad affascinare nuove generazioni di fan. Il suo prossimo tour e il suo nuovo singolo sono la prova del suo talento e della sua arte, senza tempo. Cremonini rimane una forza da non sottovalutare nel panorama musicale italiano. La sua musica continua a ispirare ed emozionare. Mentre si appresta ad affrontare questo nuovo capitolo della sua carriera, una cosa è certa. La stella di Cesare Cremonini continuerà a brillare per molti anni a venire.